La concorrenza nella ricerca scientifica di Francesco Magris Lo stato della ricerca scientifica in Italia desta da qualche anno preoccupazione. Drastici tagli ai fondi destinati agli enti di ricerca e sistemi di cooptazione baronali sono giornalmente denunciati da attenti osservatori, i quali invocano delle riforme volte ad introdurre un sistema di incentivi che stimolino una tensione concorrenziale tra i ricercatori. Tuttavia, l'idea che la produzione scientifica possa sottostare alle leggi che regolano la produzione dei beni ordinari si presta ad una serie di critiche. In questo saggio, l'autore evidenzia la natura intrinsecamente non mercantile dell'attività di ricerca e la difficoltà di poterla assimilare alle attività economiche più tradizionali. È la stessa pluralità creativa del mercato a richiedere approcci molteplici e diversi. Prendendo spunto dal dibattito in corso nell'ambito della scienza economica, l'autore perviene a svelare paradossi e contraddizioni insite in un sistema culturale fondato, talora acriticamente, sul paradigma maggioritario e sulle tendenze vincenti della scienza economica, a scapito del pluralismo così vitale per ogni ramo del sapere. Il sapere scientifico della scuola, con una ricerca sull'immaginario di scienziati, docenti e studenti. Quando, nel maggio del 1998, alcune centinaia di studenti occuparono per cinque giorni i chiostri del Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano per presentare i 51 progetti sulla scienza che avevano preparato a scuola, non fu difficile capire il ribaltamento di ruoli implicito nel progetto Scienza Under 18. Al museo non c'erano studenti in visita, ma studenti che proponevano la loro scienza. Da allora, SU18 ha presentato complessivamente 1065 progetti sulla scienza che hanno coinvolto 10.000 studenti come espositori e altri 45.000 studenti come visitatori. All'Exhibit si sono affiancate nuove forme di comunicazione pubblica della scienza come il simposio, il teatro, il giornalismo scientifico, le sfide, articolazioni sbocciate dal progetto originario per la passione, la ricerca, il coinvolgimento di insegnanti, studenti, scienziati. Questo volume documenta l'evoluzione del progetto, ne evidenzia le coordinate teorico-pratiche, oltre a raccogliere l'esito di alcune ricerche, le ipotesi praticate per la formazione e le immagini suggestive riprese dagli stessi studenti. Metodologia della ricerca per le scienze motorie e sportive Il presente volume riguarda una scienza relativamente giovane, lo studio del movimento umano. Il volume comprende 22 capitoli che si devono considerare essenziali per la comprensione del metodo scientifico, come si prepara una ricerca, l'analisi preliminare delle conoscenze attuali, la condotta etica e l'integrità scientifica, la definizione del metodo appropriato allo specifico quesito, oltre che l'acquisizione e l'analisi dei dati. Il libro si occupa anche dei differenti tipi di ricerca, ricerca storica, filosofica, meta-analisi, inchiesta, ricerca descrittiva, sperimentale e quasi sperimentale. Ancora, ricerca qualitativa e metodi misti di ricerca. Il libro si conclude con tutti i suggerimenti ed i consigli su come stendere un rapporto di ricerca per presentare i risultati in maniera chiara e coincisa. Tutto questo si trova nella sesta edizione americana. Tuttavia, i lettori della presente versione italiana, edita da Calzetti e Mariucci, editore estremamente convinto del valore dell'opera e dell'importanza di metterla a disposizione di tutti i lettori italiani, potranno beneficiare delle informazioni aggiunti da Bellotti e Rainoldi nel tentativo di sottolineare l'importanza per gli studenti del movimento umano in Italia. Videoricerca e documentazione narrativa della ricerca pedagogica di Galliani e De Rossi Il tema della videoricerca è pressoché ignorato nelle scienze pedagogiche del nostro Paese, o meglio, si usa quasi esclusivamente il video per documentare azioni didattiche in funzione della formazione iniziale e in servizio degli insegnanti o, raramente, per riflettere assieme e migliorare le pratiche educative. Nella pedagogia, a differenza di altre scienze umane e sociali come la sociologia, l'antropologia, l'etnografia, non possiamo rivendicare un framework specifico e condiviso di pedagogia visuale. In questo testo abbiamo in primo luogo ricostruito il quadro scientifico che inserisse con argomentazioni convincenti la videoricerca e la documentazione digitale entro l'ambito della ricerca pedagogica, cercando conferme nella letteratura scientifica nazionale e internazionale riguardante il ruolo dei metodi visuali nella ricerca. Ricerca operativa, programmazione lineare, intera e non lineare di Massimiliano Caramia, Stefano Giordani, Francesca Guerriero La ricerca operativa è un settore della matematica che si occupa di modellare quantitativamente problemi complessi per supportare le decisioni strategiche, tattiche e operative in vari ambiti applicativi, dall'economia alla finanza, dalla produzione ai trasporti, dalla sanità all'ambiente, solo per citarne alcuni. In virtù dell'importanza crescente assunta negli anni, la ricerca operativa ha attratto l'attenzione di numerosi ricercatori provenienti da diversi settori scientifici che, con i propri studi, hanno contribuito a caratterizzarne l'aspetto multidisciplinare. Questo volume si pone l'obiettivo di raccontare le esperienze di più docenti universitari provenienti da scuole scientifiche e sedi differenti al fine di produrre un testo in grado di presentare gli argomenti di base della ricerca operativa in modo ampio, omogeneo e accessibile, mantenendo comunque un elevato rigore scientifico. Il testo è suddiviso in quattro parti. La prima si occupa della modellazione dei problemi decisionali. La seconda e la terza parte trattano rispettivamente la programmazione lineare e la programmazione intera, mentre la quarta è dedicata alla programmazione non lineare. La trattazione di ciascun argomento è corredata da numerosi esempi numerici ed esercizi che consentono al lettore di avanzare con gradualità nel processo di apprendimento. Il volume è rivolto agli studenti universitari dei corsi di laurea in ingegneria, scienze matematiche e statistiche ed economia, ma anche a manager e consulenti del mondo lavorativo, pubblico e privato. Reality Check, la ricerca scientifica dimostra l'efficacia della chiropratica, di Heidi Havik. Vi siete mai chiesti come funziona la chiropratica? In questo libro la dottoressa Heidi Havik, chiropratica e ricercatrice scientifica pluripremiata, ci accompagnerà in un viaggio attraverso i meccanismi di funzionamento del nostro corpo, per farci comprendere con un linguaggio semplice il legame che c'è tra la chiropratica e le neuroscienze. Leggendo questo libro scoprirete quello che accade nel vostro cervello quando un chiropratico aggiusta la vostra colonna vertebrale e come la chiropratica abbia un impatto sulla funzionalità quotidiana del vostro corpo. Scoprirete perché un movimento anomalo della vostra spina dorsale può avere un impatto negativo sul vostro corpo in modi e con sintomi apparentemente non correlati e come le cure chiropratiche possano aiutarvi a ripristinare la vostra salute e il vostro benessere. Questo libro è basato su ricerche di avanguardia compiute negli ultimi due decenni. La dottoressa Havik è una pioniera della ricerca e ha avuto un ruolo fondamentale nell'identificare i legami tra neuroscienze e chiropratica. Astrobiologia, le frontiere della vita La ricerca scientifica di organismi extraterrestri Di Giuseppe Galletta e Valentina Sergi Può nascere e sopravvivere una forma di vita fuori dal pianeta Terra? A questa domanda risponde il volume Ripercorrendo le attuali frontiere della ricerca scientifica nel campo dell'astronomia, della biologia, delle scienze planetarie e dell'astronautica e proponendosi come il primo libro in italiano che affronta tutti gli aspetti di una nuova disciplina scientifica l'astrobiologia. La trattazione parte dalla definizione biologica di essere vivente e dall'analisi di come gli atomi e molecole fondamentali della vita si formino già nello spazio per passare quindi alla nascita dei pianeti e alle proprietà del centinaio di pianeti extrasolari scoperti. Sono inoltre analizzate le teorie sull'origine della vita mostrando organismi che vivono in situazioni estreme come i vulcani sottomarini e i laghi antartici. Dopo la descrizione degli ambienti che saranno esplorati nei prossimi anni Marte, Europa, Titano viene discussa statisticamente l'esistenza di altri esseri intelligenti nella galassia confrontando tra loro idee filosofiche aspetti antropologici e sociologici che possono nascere dal contatto con una civiltà aliena. Il volume si rivolge a tutti gli appassionati di astronomia e di scienze della natura ma può anche costituire un utile strumento didattico per i due livelli dei corsi di laurea scientifici. Il mestiere della scienza La ricerca scientifica tra artigianato e big science di Carlo Enrico Bottani Da oggetto di studio di epistemologi, storici e sociologi della scienza i ricercatori devono trasformarsi in soggetti critici che esprimono il punto di vista degli addetti ai lavori ad artigiani della scienza e i cittadini. Malgrado l'origine quasi religiosa della vocazione scientifica lo scienziato non appartiene ad una razza speciale e il suo è, almeno in parte, un lavoro come un altro anche se può implicare responsabilità eccezionali. Potrà più facilmente sostenerle se si renderà conto che i sacri metodi delle scienze esatte non sono poi così diversi da quelli delle scienze umane. Alla tradizionale tema di discussione sul rapporto tra scienza e conoscenza dovrà allora affiancare una approfondita riflessione su scienza e comunicazione scienza e tecnologia e soprattutto scienza e democrazia. argomenti cruciali in un periodo di crisi non solo economica che l'autore, ricercatore di fisica della materia affronta in queste pagine. Il libro non intende infatti divulgare le teorie di uno specifico ambito della scienza o un particolare problema scientifico bensì provare a spiegare che cos'è la scienza e soprattutto in che cosa consiste il lavoro dello scienziato e la sua rilevanza sociale effettiva e non quella percepita sull'onda di emozioni suscitate dal sensazionalismo mediatico. La scuola ai tempi del digitale istruzioni per costruire una scuola nuova di Vittorio Midoro «Todo cambia» è una bella canzone di Mercedes Sosa che infatti negli ultimi 50 anni è cambiata la composizione della forza lavoro è cambiato il motore dell'economia sono cambiate le tecnologie per il trattamento del sapere è cambiata la velocità con cui si accresce la conoscenza la popolazione mondiale è aumentata di 5,5 miliardi di individui per i fenomeni migratori è cambiata la composizione della popolazione italiana è cambiata la percezione della limitatezza delle risorse del pianeta «Todo cambia» l'unica cosa che non cambia mai è la scuola certo, in questo lasso di tempo qualche modifica c'è stata per tentare di colmare il baratro che la separa dalla società ma le finalità, la struttura, l'organizzazione l'idea di apprendimento la cultura cartacea su cui è basata gli edifici, le aule, le apparecchiature sono rimaste praticamente le stesse questa non può essere la scuola della società digitale come potrebbe essere la nuova scuola? questo libro, realizzato da 17 autori impegnati su diversi fronti dell'innovazione scolastica cerca di dare una risposta sia con contributi che delineano l'idea di una scuola nuova precisando che non è un problema di macchine sia con proposte che affrontano temi cruciali emersi dalla diffusione capillare delle tecnologie digitali come sfruttare per l'apprendimento la commistione tra gli spazi fisici e gli spazi virtuali in cui siamo permanentemente immersi in che cosa consiste l'educazione al pensiero computazionale che ruolo possono avere i giochi in una didattica centrata sullo studente chi sono i maker e perché la scuola deve occuparsene e come si possono realizzare spazi in cui possano lavorare quali sono gli strumenti che aiutano gli insegnanti nella progettazione di ambienti di apprendimento e quali ostacoli si sovrappongono all'uso delle tecnologie e ancora come ripensare la conoscenza il problema che abbiamo di fronte non è introdurre le tecnologie digitali in questa scuola ma creare una scuola diversa capace di mettere in grado gli individui che vivono nell'era digitale di scegliere un modello di vita per loro adeguato rispondendo così alle esigenze di uno sviluppo giusto e sostenibile Scienza è democrazia come funziona il mondo della ricerca di Maria Luisa Villa Affermare che la scienza non sia democratica è un esercizio tanto comune quanto profondamente errato perché fraintende la natura della ricerca e ne ignora la storia La scienza moderna affermatasi in Europa con la rivoluzione del 1600 affonda le sue radici nelle polis della Grecia antica dove emersero le condizioni di libertà intellettuale che l'hanno resa possibile La rivoluzione dell'età barocca impostando la ricerca come processo aperto fondato sulla comunicazione pubblica dei risultati diede avvio alla formazione di una rete informale tra pari che negli anni si arricchì di prestigio e funzioni e prese il nome di comunità scientifica Il consenso della comunità dei pari è l'arbitro ultimo del valore di una ricerca perché la scienza richiede l'evidenza dei fatti ma è la decisione collettiva della comunità a stabilire se questa evidenza è sufficiente per far accettare una nuova ipotesi Chi vuole fare scienza deve rispettare questi principi chi non li rispetta se ne mette fuori L'ethos internamente democratico della scienza è stato violato più volte ma ha saputo autocorreggersi e si conserverà fino a che i risultati rimarranno pubblici e gli scienziati potranno continuare a giudicarli apertamente Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti